Buongiorno a tutti gentili telespettatori, ben trovati al Refresh, buona giornata da Andrea Vignolini, è martedì 27 giugno 2023, siamo pronti per leggere insieme le prime pagine di oggi con i titoli e le notizie principali del giorno. Partiamo subito dal titolo del Corriere della Sera, l'apertura Torna Putin, non ci spaccherete, il leader russo avrei soffocato la rivolta tra i Wagner, anche patrioti, Prigozni non era un golpe e dunque viene chiarito ovviamente che quello della brigata Wagner non era un golpe ma una dimostrazione di forza. Washington, noi non siamo convinti, la telefonata di Biden a Palazzo Chigi, l'esercito ucraino avanza e supera il fiume del Dnipro, spiega il quotidiano il Corriere della Sera. Poi in prima pagina, vedete di spalla, droga, Meloni contestata, non mi fermo, basta l'assismo, le droghe fanno male tutte, dice la Premier Meloni, cannabis non ci pensa lo Stato, ci pensa la mafia, risponde Riccardo Maggi di più Europa con uno striscione, non mi lascio intimidire, ribatte Giorgia Meloni e scontro nella giornata mondiale sulle droghe. E poi le regionali, anche il Molise al centro-destra, Movimento 5 Stelle e PD battuti, è il titolo di apertura, tra l'altro il cosiddetto campo largo non raggiunge nemmeno il 30%, poi vedremo anche alcuni titoli sui quotidiani del giorno. Intanto il Colosseo, la fotonotizia a centro pagina che riguarda Roma, in particolare lo sfregio del turista al Colosseo, incide il nome della fidanzata, il video in rete San Giuliano, va trovato e punito, rischia il carcere, rischia fino a 5 anni di carcere e 15 mila euro di multa il ragazzo che con una chiave ha sfregiato il muro del Colosseo, è stato ripreso mentre incideva il suo nome e quello della fidanzata, lo sdegno del ministro San Giuliano, va trovato e punito. E poi due altre notizie, sempre sulla prima del Corriere della Sera, di oggi l'appello cospito, i giudici ricalcolano la pena per l'anarchico Alfredo Cospito, niente Ergastolo ma per lui una condanna a 23 anni. Ancora a Roma la morte di Manuel, youtuber sul SUV a 124 chilometri all'ora, il jeep di Pietro può rifarlo e per questo ovviamente resta in carcere. Andiamo avanti con i titoli del giorno, lo facciamo con la prima pagina del quotidiano La Repubblica e ovviamente le notizie principali della giornata, l'apertura riguarda in questo caso il conflitto russo-ucraino, il diktat di Putin, ultimatum ai mercenari della Wagner, unitevi all'esercito o riparate in Bielorussia, ogni tentativo di insurrezione fallirà. Messo al bando dal cremelino riappare Prigozhin, non cercavamo il golpe ma le accuse contro di lui non sono cadute, la controffessiva ucraina intanto supera il Dniepr, testa di ponte a Kherson è il titolo di apertura ovviamente della Repubblica di oggi. E poi la politica vedete la destra vince anche in Molise, parte male l'intesa, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, in realtà lì c'era anche la sinistra e quindi diciamo tutto il campo largo prende un'altra batosta. Open to Visibilia è il titolo di Repubblica, l'inverno di Sant'Anché, Daniele Sant'Anché, che è chiamata ovviamente a chiarire dopo l'inchiesta di Report l'operato delle sue società. E poi il viaggio di un sistema minacciato, Paolo Rumiz di Repubblica di oggi racconta, sdraiato sul letto al pronto soccorso, ho visto il bello della sanità pubblica. Andiamo avanti con i titoli del giorno, lo facciamo anche con La Nazione e l'apertura di pagina. Il ministro, riforma del voto in condotta, scuola, intervista a Valditara, ridiamo autorevolezza ai docenti, più valore al giudizio sul comportamento, alloggi per i docenti, meloni, la droga tra i giovani, colpa di certe serie tv, non esistono quelle leggere, voto in Molise, trionfa il centrodestra, flop, PD e Movimento 5 Stelle. Poi bimbo ucciso dal SUV, lo youtuber resta ai domiciliari, lo schianto mortale a 130 all'ora. A caccia di record, di like, correndo a 124 km all'ora dove il limite è a 50, Matteo Di Pietro è quindi meritevole di un provvedimento restrittivo perché non si può escludere che possa ripetere il reato. L'ordinanza della GIP Angela Gerardi sulla tragedia di Casal Palocco racconta i fatti accaduti alle 15.38 di quel maledetto 14 giugno il ventenne youtuber e agli arresti domiciliari per omicidio stratale. E poi il piano del ministro Calderone, ministro del lavoro in pensione a 62 anni, nelle aziende in crisi. E poi richiamo che riguarda Firenze, la piccola cata e quel buco nero, nuove verifiche dei carabinieri. Ancora sempre all'interno del quotidiano della nazione, siamo a Firenze con lo stadio nuovo, il tardice no al ricorso della Fondazione Franchi e dunque via lì a Fondazione Nervi, il via libera al Franchi e poi a Livorno, notte senza divieti, il giudice piena libertà per Apolloni e Lucarelli. Sono accusati di violenza sessuale. Andiamo avanti con il titolo del quotidiano Il Tirreno, l'edizione è quella di Firenze, Prato e Empoli. L'apertura, stadio, ricorso bocciato. Firenze e gli eredi dell'architetto Nervi perdono il primo round, i giudici se fosse vivo solo lui potrebbe rivendicare il diritto d'autore. E poi nel taglio alto, SOS da Paperino, siamo a Prato, dimenticati dal comune, i residenti si lamentano tra erbacce, degrado e lavori fermi al campo sportivo. Andiamo avanti con i titoli del giorno, lo facciamo con la prima pagina del quotidiano libero. L'apertura aumenti e arretrati, ecco le nuove pensioni, da luglio a segni più alti. Scattano le maggiorazioni, oltre 2 milioni di cittadini riceveranno bonus fino a 300 euro per gli ultra 75 anni, 40 euro al mese in più. Andiamo anche sulla prima pagina del quotidiano Il Giornale. Meloni antidroga, basta spacciatori eroi, premier contro la legalizzazione, narrazione sbagliata, quella delle serie tv, che insegnano che gli stupefacenti non fanno male. Andiamo avanti con il Fatto Quotidiano, l'apertura, Sant'Anché, conti e bugie, i 10 punti che deve spiegare, le domande del Fatto Quotidiano, i debiti con il fisco, i conti truccati, la cassa integrazione Covid, il manager pagato dal Senato, la russa Double Face e il TFR, dei dipendenti. Andiamo avanti con la verità, il titolo di apertura, spendiamo milioni per custodire miliardi di mascherine da buttare, l'eredità dei commissari al Covid. Andiamo avanti con il titolo del quotidiano, invece il domani, l'apertura, è Renzi, la terza gamba di Meloni, in Molise, la sinistra perde ancora. E poi segnaliamo anche il titolo del riformista, lo vedete, campo basso barrato, largo barrato, campo santo, facendo riferimento diciamo così al centro-destra che sbaraglia la sinistra in Molise e questo è il titolo con la foto di Giuseppe Conte sul riformista di oggi. Adesso è il momento di ripercorrere tutti i fatti principali accaduti il 27 giugno, grazie all'Almanacco di oggi. Buona giornata con l'Almanacco Barbanera, oggi è il 27 giugno, si ricorda San Cirillo. Il nome Cirillo viene dal greco Chirillos derivato dalla parola Chirios, signore, e significa giovane re. Dice il proverbio la briglia regge il cavallo e la prudenza l'uomo. Sono nati oggi Giorgio Almirante, Alberto Bevilacqua, Isabella Gianni. Il 27 giugno 1894, Carl Benz riceve il suo brevetto per il motore a combustione interna. Nel 1898, per la prima volta, un uomo compie la circumnavigazione del globo terrestre in solitario, è Joshua Slocum che ha impiegato tre anni, due mesi e due giorni. Infine il 27 giugno 2007, Tony Blair rassegna le sue dimissioni da primo ministro del Regno Unito e lascia la sua abitazione alla 10 di Downing Street. Gli succede Gordon Brown. Napoleone Bonaparte ha detto, lo stupido parla del passato, il saggio del presente, il folle del futuro. Arrivederci da Barbanera, nel 1762 l'almanacco più amato d'Italia. Ed eccoci qua ancora con i titoli del giorno. Il Corriere dello Sport Stadio sarà straniero, questo è il titolo di apertura. Chi sarà straniero? Il nuovo portiere della Fiorentina. Nella lista c'è Timorn, Amrabat blocca gli acquisti, è il titolo di apertura. Per il nuovo portiere della Fiorentina guarda solo al mercato estero. Il numero uno del Colonia non rinnoverà. Sono pronto per nuove avventure. Caso stadio, il Tar ha bocciato il ricorso contro il restyling, spiega il quotidiano il Corriere dello Sport Stadio. Andiamo anche alla Gazzetta dello Sport. L'apertura ovviamente per quanto riguarda il quotidiano sportivo, che ci porta invece a un altro titolo, in particolare a quello che sta accadendo sul fronte del mercato. Eccoci qua con il titolo di apertura, che riguarda ovviamente i colpi del diavolo. Lotovcic e Pulisic in arrivo, Milan scatenato dal Chelsea, ecco il centrocampista e l'esterno offensivo. In attacco l'Azzurro favorito su Morata e ora Scamacca, fantasia e astuzia, mercato all'italiana, spiega il quotidiano la Gazzetta dello Sport sulla prima pagina. E poi Juve verso l'Eurostop, eccoci qua, rischia un anno di squalifica, niente confidence. L'OEFA potrebbe punire i bianconieri con una maximulta. E questa è la notizia che spalanca di fatto la partecipazione alla prossima Conference League della Fiorentina. Vedete, la leggiamo oggi sulla Gazzetta dello Sport, notizia decisamente importante. Ci fermiamo per ovviamente per la Fiorentina e per tutti i suoi tifosi. Si preannuncia dunque una nuova partecipazione alla Conference League. Ci fermiamo per dare lo spazio alla regia. Torniamo tra poco con tutte le notizie di oggi all'interno di Refresh. Restate con noi. La vostra storia è anche la nostra e quella di tutte le nonne. Per questo alla COP ci sono i prezzi pop. Con almeno 15 euro di spesa hai un buono da 5 euro da usare entro il 9 luglio. La COP sei tu. Esplorare nuovi territori, questa sono io. Il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini. Con Astra ho scelto una vita senza sprechi. Luce green da fonti rinnovabili, il calore naturale per la mia casa. E fibra per lavorare con le mie connessioni a distanza. Tutto questo si chiama scelta pura ed è per ognuno di noi. Cambiamo insieme. Ehi Astra, accendi la luce. Umberto ha un suo autista. Diletta tutte le mattine a chi la pettina. A Carlo viene servito il suo vino preferito. Diletta, Umberto e Carlo non sono né regina né re. Tantomeno ricchi signori. Sono malati di Alzheimer. Perdono la memoria e tutte le capacità cognitive. L'Alzheimer colpisce 800.000 persone in Italia. E solo i familiari si prendono cura di loro. Tutti i giorni, tutto l'anno, perdendo la libertà. Non lasciateli soli. Sostenete l'Alzheimer. Non dimenticare chi dimentica. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alzheimer. Non ti costa nulla, ma per noi vale tanto. Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Bayway Mail. Facile e sicuro. Basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale. Fede, pronta per una nuova sfida? Prontissima. Dovrai gonfiare un canotto in un minuto a 52,98. Il mio record. Via! Vinci come me le sfide di ogni giorno con Sustainium Plus e la sua formula specifica a base di vitamine e complesso di amminoacidi. Sustainium Plus. Dai energia alla tua energia. E dopo i 50 anni, Sustainium Plus a 50 più con Actiful e Menarini. Pronta per la prossima sfida? Io no. Sono iscritto in FIOM per essere consapevole dei miei diritti e farli valere. Perché la condivisione e l'unione di coscienze hanno un valore immenso. Perché il senso civico è al centro della nostra battaglia. Sono iscritto alla FIOM perché mi piace stare dalla parte giusta. Perché insieme possiamo fare di più. Ho scelto la FIOM per difendere i miei diritti e dare voce alle mie paure. Perché è lotta, resistenza e ostinatamente antifascista. Campagna di tesseramento FIOM CGL. Unisciti a noi. Buongiorno a tutti gentili telespettatori di Toscana TV e Firenze TV. Di nuovo ben trovati a Refresh. Buona giornata da Andrea Vignolini. È martedì 27 giugno 2023. Leggiamo assieme, dopo le prime pagine, tutte le notizie di oggi all'interno dei giornali. Partiamo da pagina 2 del Corriere della Sera sul conflitto russo-ucraino. Dopo che ovviamente tutti noi avevamo interpretato l'avanzata della brigata Wagner verso Mosca come un tentativo di colpo di Stato, parla in un audio il leader dei mercenari, Prigozni, che spiega abbiamo mostrato a tutti come si doveva fare l'invasione, avvistato a Minsk, non dice cosa lo aspetta. Prigozni spiega la marcia, volevamo giustizia, non abbattere il regime. Il no alla firma, ci chiedono di firmare un contratto con la difesa, ma così verremo usati come carne da macello. Il dietro fronte, ci siamo fermati nel momento in cui è diventato evidente che avanzando si sarebbe sparso molto sangue. Questo spiega Prigozni. Gli risponde il presidente russo Vladimir Putin. Il presidente non ci spaccherete, potevamo soffocare la rivolta nel sangue. Nel primo discorso in tv fa alcune concessioni ai miliziani insorti, siete patrioti anche voi e offre loro l'esilio in Bielorussia. Il pericolo, i nostri militari hanno conservato la fedeltà al loro paese, hanno salvato la Russia dalla distruzione. Gli organizzatori della rivolta hanno tradito i loro compagni, i neonazisti ucraini. Volevano il fratricidio. Questo spiega Vladimir Putin. Intanto, sul fronte internazionale, la telefonata del presidente americano Joe Biden a Giorgia Meloni. Sosteniamo Kiev, il presidente USA. Non siamo coinvolti in quello che è successo. La telefonata con la Premier. Vedete i danni in un appartamento dopo il bombardamento russo vicino ad Odessa. Questo è il titolo. E poi, l'altro fronte, quello che accade in Cina, l'attendismo di Pechino. Sono affari interni alla Russia e i media raccontano del presidente cinese Jinping preoccupato per i panda. Il leader cinese è il messaggio di calma. Oppure, in certezza, la rivolta della regata Wagner è stata trattata dai media cinesi con cautela e attendismo. Pechino ha chiarito che i fatti del fine settimana sono questioni interne della Russia. Andiamo avanti invece con le questioni che riguardano in questo caso l'Italia. Siamo allo scontro sulle droghe che riguarda la presidente del Consiglio Meloni e il deputato Riccardo Maggi. Meloni, droghe, basta con il lassismo. Sulla cannabis, scontro alla Camera. Botta e risposta con più Europa. La Premier accusa in TV serie pro spacciatori e film antimuccioli. In particolare un attacco a Netflix da parte di Giorgia Meloni. Mentre sul fronte della politica si parla del carroccio, il ponte, i codici e la sintonia con gli alleati. La strategia per risalire del nuovo Salvini. E dentro la Lega vince il congresso in Veneto. Oggi arriva il codice della strada e i primi passi per la società del ponte sullo stretto. Matteo Salvini è di buon umore. Torna in televisione, convinta la politica e non soltanto le opere pubbliche. Vince i congressi di partito più spinosi con alcune scadenze che non intende affatto far dimenticare. Oggi si unirà per la prima volta al Consiglio di amministrazione della risorta a ponte sullo stretto S.P.A. E sempre oggi approverà in Consiglio dei Ministri il nuovo codice della strada su cui il responsabile dei trasporti ha investito moltissime energie. Andiamo avanti con i titoli sempre all'interno del quotidiano del Corriere della Sera. E qua c'è il tema del Molise. Vittoria del centrodestra, l'alleanza PD-Movimento 5 Stelle fallisce il test. Roberti è il nuovo governatore, l'avversario Gravina, la loro coalizione ha funzionato di più. Questo è il titolo ovviamente del Corriere. E poi per l'Emilia Romagna il commissario. In corsa ci sono Figliuolo e Bertolaso. E quindi questi sono i nomi ovviamente per quanto riguarda il commissario dell'Emilia Romagna. Non Bonaccini. Il tracollo del centro-sinistra in Molise. Tracollo del Movimento. Conte finisce nel Mirino. Dem in calo divisi sull'intesa. Maschlein tira dritto. Dunque il campo largo in questo caso non ha assolutamente funzionato perché come vedete il centro-sinistra è arrivato praticamente al 35,2%. Andiamo avanti con i titoli del giorno. Sempre all'interno del quotidiano il Corriere della Sera. Chiarimento in aula di Sant'Anché. Ora nella maggioranza c'è chi frena. Dubbi di Fratelli d'Italia e anche nella Lega sull'opportunità. La Ministra potrebbe parlare giovedì. Intanto vedete la Procura di Milano nel novembre del 2022 ha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di falso in bilancio sulla visibilia editore di cui è stata Presidente la Ministra del Turismo di Sant'Anché, di Fratelli d'Italia. Lo scorso lunedì il report ha mandato in onda un servizio sulla ex società di Sant'Anché con accuse pesanti, bilanci in rosso, lavoratori mandati a casa senza liquidazione e ditte strozzate da forniture non pagate. Le opposizioni e anche gli alleati di Lega e Forza Italia hanno chiesto alla Ministra del Turismo di chiarire in aula. Lei, non vedo l'ora di essere sui banchi del Senato, spiegherò punto per punto. Andiamo avanti sempre con le notizie all'interno del quotidiano Il Corriere della Sera. Testamento Berlusconi, le scelte per la continuità nella guida delle aziende, le quote per l'assetto di Fininvest e Fascina potrà restare ad Arcore. Vedete nella foto Silvio Berlusconi con i suoi cinque figli in un salone di Villa San Martino ad Arcore, Eleonora, Pier Silvio, Marina, Barbara e Luigi insieme a Silvio Berlusconi. E poi la cronaca con l'anarchico Alfredo Cospito che evita l'ergastolo, condanna a 23 anni e pugno alzato. Vedete nello schermo Alfredo Cospito sul video della Corte d'Appello di Torino collegato da Sassari dove è detenuto. Torino pesa la lieve entità, le bombe non finirono i carabinieri, un'altra istanza sul 41 bis. Allora dunque l'anarchico Alfredo Cospito è detenuto per la gambizzazione di un dirigente dell'ansaldo Roberto Adinolfi, pena definitiva e gli attentati falliti alla caserma dell'arma di Fossaneo in provincia di Cuneo nel 2006. Di ieri la sentenza d'appello, ad aprile la consulta aveva giudicato in costituzionale non poter concedere le attenuanti per i reati che prevedono l'ergastolo, in caso contrario ieri l'ergastolo per i fatti del 2006 sarebbe stato quasi automatico. A metà aprile Cospito aveva interrotto lo sciopero della fame contro il regime detentivo del 41 bis dopo sei mesi di digiuno. Tutti i giudici hanno confermato la regolarità del carcere duro per il caso dell'anarchico, ma adesso appunto condanna a 23 anni. Intanto la cronaca con l'incidente ovviamente di Casal Palocco, il SUV correva a 124 all'ora e noi in auto con Di Pietro gli dicevamo di rallentare Roma nell'ordinanza del GIP i racconti degli altri youtuber. Sparite dall'auto due telecamere usate per registrare i video del gruppo, spiega il giudice. Da sabato, ricordiamo Di Pietro ha gli arresti domiciliari per l'omicidio stradale, oggi si svolgerà l'interrogatore di garanzia del ventenne youtuber. Ancora avanti con i titoli di oggi c'è un'intervista molto bella da leggere a Ferruccio Ferragamo la seconda vita di Ferruccio Ferragamo. A dieci anni papà mi faceva inchiodare le casse con le scarpe per le star. Ora vivo tra i vigneti con 130 cavalli, le api e un greggio di pecore. Ferruccio Ferragamo 77 anni nell'altenuta del Borro in provincia di Arezzo che fu di proprietà dei medici, adesso ovviamente di proprietà della famiglia Ferragamo. ovviamente la domanda dice come diventò famoso suo padre? Aprendo in California a Santa Barbara un negozio di 4 metri per 4 venne John Wayne a farsi gli stivali, poi arrivarono tutte le dive di Hollywood quando papà si trasferì in Italia le attrici venivano a farsi costruire modelli a Firenze. Abbiamo 14.000 modelli di quel periodo compresi quelli per Merlin Monroe, alcuni sono assemblati persino con i fili di rete da pesca perché non si trovava per lame durante la seconda guerra mondiale. nel 1960 suo padre morì, toccava la generazione successiva, papà se lo sentiva ripeteva che aveva bisogno di altri anni per fare tutto quello che aveva in testa alla sua morte nessuno tra noi, sei fratelli e sorelle era in età del lavoro io avevo 14 anni, Fiamma 17, Giovanna 15, Fulvio 11, Leonardo 7 e Massimo 2 allora producevamo solo scarpe da donna, il 50% su misura e quindi sua madre vandamiletti come se ne uscì, inventò una nuova azienda oltre alle scarpe Fiamma si dedicò alle borse, Giovanna ai vestiti, Fulvio ai gioielli, alla sete alle cravate, Leonardo ai mercati esteri alle scarpe da uomo, settore in cui diventammo presto il numero uno sulla fascia alta, Massimo poi si concentrò sugli Stati Uniti. Lei quando entrò in azienda a 18 anni, avevo lasciato il liceo scientifico per studiare da ragioniere, me lo consigliò il mio cugino Gerry che aveva 18 anni più di me ed era stato fondamentale per far crescere Ferragamo. Uno che sa fare i conti serve sempre, mi disse, ed è stato così. E questo è il racconto ovviamente di Ferruccio Ferragamo nell'intervista ovviamente al Corriere della Sera di oggi. Da piccolo raccontavo agli amici di Henry Hepburn, mi credettero quando videro le foto. Al borro c'è il miele, vanda come sua madre, perché si chiama così? Mia madre ci parlava spesso delle arnie di suo padre, medico in provincia di Avellino, ci regalava libri sulle api, ma le davamo poca soddisfazione e quindi per questo ovviamente l'idea della produzione di miele. Va a caccia poco, cinghiali e fagiani, al borro abbiamo 130 cavalli, 60 dei quali sono ospiti paganti, 38 partoriscono quest'anno, i puledri sono una decina, i cavalli in pensione sono sacri come le vacche, tengono i campi puliti e li concimano. E adesso cosa vuol fare al borro? Vogliamo tenere aperte le strutture ricettive per 12 mesi l'anno con spa e piscine riscaldate. Stiamo avviando una fondazione, abbiamo 206 dipendenti, molti a chiamata che non riescono a ottenere mutui per le case, la fondazione farà da garante alle banche per quelli che si vogliono accasare nei quattro comuni dei 1100 ettari del borro, la intitoleremo a primo il magazziniere che fece carriera partendo dalle commissioni, questo spiega oggi Ferruccio Ferragamo in questa intervista al Corriere della Sera. E poi siamo ovviamente ai titoli che riguardano anche l'economia, in particolare le pensioni, riapre il cantiere l'ipotesi di 41 anni di lavoro senza un requisito di età, ieri il confronto tra le parti sociali, l'andini della CGL, un incontro inutile, l'Inps conferma l'aumento delle pensioni minime a partire da luglio. Andiamo avanti sempre con le notizie che troviamo all'interno dei quotidiani, lo facciamo con la prima pagina del quotidiano, con la Repubblica, no le pagine interne della Repubblica che diciamo si occupa invece di quello che sta accadendo nel conflitto russo-ucraino, dopo ovviamente quello che non è stato un tentativo di golpe della brigata Wagner, la controoffensiva avanza, primi militari di Kiev oltre il ponte sul fiume Dnipro, nel Donex preso Rivnopil, villaggio che consente di colpire Mariupol con missili a lungo raggio, vedete gli ultimi attacchi della controoffensiva ucraina, questi sono i territori sotto il controllo russo, siamo praticamente nella zona verso la Crimea di Kherson e Zaporizia. Andiamo avanti sempre con i titoli all'interno del quotidiano della Repubblica, la vicenda di Daniela Santanché, affaristi di governo e il titolo le azioni sospette del fondo di Dubai che salvò la società di Santanché. Negma di investitori ignoti è intervenuto su tre aziende realizzando forti plusvalenze, l'ombra di aggiottaggio e manipolazione del mercato. E poi c'è l'addio, l'addio di Mario Secchi a Meloni, stratega mancato di Palazzo Chigi, si è ritrovato tutto lo staff contro e quindi dovrebbe appunto diventare direttore di Libero. Poi siamo ovviamente anche alla notizia che abbiamo letto ieri dell'insegnante che è stata licenziata perché praticamente non ha lavorato per vent'anni, malattie, congedi, corsi come vivere vent'anni da professoressa Fantasma. La storia di Cinzia Paolina De Lio, l'insegnante di storia e filosofia di liceo destituita il 22 giugno da una sentenza della Cassazione per incompatibilità con l'insegnamento documentata e certificata come alcune difficoltà personali che ne disegnano una biografia complessa. De Lio, 56 anni, originaria di Reggio Calabria, vince un concorso e diventa docente di ruolo alle superiori nel 2001. Da lì passa prima per l'istituto magistrale di Polistena, Reggio Calabria, poi per il liceo scientifico Galilei a Dolo, Venezia, per il Veronese di Chioggia, sempre Venezia, per il Carducci Trieste, trasferimenti e assegnazioni provvitorie annuali. Ebbene, nei vent'anni che vanno dal 1 settembre del 2001 al 30 giugno del 2021, la prof colleziona 67 certificati di assenza per malattia che la portano dalla cattedra, si legge anche le sentenze della Cassazione, da 40 a 180 giorni all'anno. Questo è il punto diciamo sull'assenteismo della professoressa. L'Italia non cresce più, pesa la frenata dell'industria, è il titolo invece che riguarda in questo caso i dati della produzione industriale, variazioni percentuali tendenziali e vedete l'allarme delle imprese. Questo è il titolo che leggiamo all'interno del quotidiano La Repubblica. Se tra la fine dello scorso anno e l'inizio di questo 2023 l'economia italiana è stata una sorprendente eccezione, in un'Europa ferma, in una Germania in recessione, l'eccezione si sta rapidamente esaurendo o forse si è già esaurita, spiega il quotidiano La Repubblica. Andiamo all'interno invece del quotidiano La Nazione con i titoli del giorno, siamo ovviamente al tema che riguarda la scuola, la scuola del ministro Valditara, più peso al voto in condotta, l'autolevolezza dei prof e il primo obiettivo. Il ministro, troppi insegnanti aggrediti, serve più rispetto, garantita la difesa legale dello Stato, caro affitti, un piano in casa per aiutare i docenti, cellulare in classe, solo per la didattica. Così il ministro Valditara ha intervistato dal QM, la sospensione va ripensata, se lascio il ragazzo a casa può frequentare persone poco raccomandabili, sì ai meccanismi di cittadinanza attiva che favoriscano un vero recupero col riscatto del giovane. E poi vedete tutto quello che è accaduto in aula, spari, botte, coltellate, se la violenza entra in aula, oltre l'80% dei ragazzi che ha assistito a episodi in classe racconta di sfide create per essere filmate, vedete la difficoltà. L'emergenza e le polemiche, il dopo alluvione commissario, oggi la nomina, ora in pol c'è figliuolo, il generale che ha gestito l'emergenza Covid vanta buoni rapporti con Bonaccini, in corsa anche Bertolaso, il governatore da Palazzo Chigi, silenzio paradossale, emergenza e polemiche, la ricostruzione in Emilia Romagna, spiega il quotidiano La Nazione di Colaggia. E poi note e solidarietà, questa sera a Bologna, un gladiatore con la chitarra, faccio musica da 40 anni, mi ispiro anche alla Bibbia, ultima tappa del tour italiano di Russell Crow, incasso per gli agliuvorati dell'Emilia Romagna, ho scritto una canzone mentre interpretavo il ruolo di pastore accanto a Nicole Kidman. Russell Crow, 59 anni, è stato iscritto tra le celebrità della Hollywood Walk of Fame e vedete, questa sera sarà appunto a Bologna per il suo concerto. E poi la modella diventata Fantina, il mio sogno, correre il palio. Selvaggia Pianetti, 26 anni, domani parteciperà alle prove, ho ereditato l'amore per i cavalli da mia madre, so che una donna deve lavorare il doppio di un uomo in ogni settore, ma voglio riuscirci a ogni costo. Perché vuole correre il palio? La domanda che ovviamente vi fa il giornalista della Nazione a questa giovane Fantina ex modella. Amo le sfide, è un desiderio che viene da dentro, so di aver iniziato più tardi dei Fantini maschi e che prima di riuscire a guardagnarmi la fiducia dei capitani ci vorrà impegno e costanza. Serietà, con calma, ma ci arriverò. Intanto sono in piazza domani, all'alba, alla prova del palio. E poi ieri abbiamo dato conto dell'auto sperimentale Esplosa, è morta la ricercatrice del CNR, la donna a 66 anni è rimasta ostionata su quasi tutto il corpo, grave laureando che era con lei, a bordo del mezzo c'erano delle bombole, inchiesta alla procura, sequestrata una vettura gemella. La vicenda ovviamente è accaduta a Napoli. E poi siamo ovviamente sul caso Firenze, che ritroveremo poi in tutti i titoli della rassegna stampa locale. Stadio Monumento, ok alle modifiche, non c'è viola, l'azione della tutela. Il Franchi, il Tarno, accoglie il ricorso presentato dalla fondazione che difende l'opera di Nervi. I giudici, interventi strutturali ammissibili, se servono a garantire la sicurezza degli eventi sportivi. La nuova copertura che ospiterà un impianto fotovoltaico e le future gradinate più vicine al campo, che erano i punti contestati, in realtà si potranno realizzare secondo il Tribunale amministrativo regionale. Il Comune è ottimista, come vedete ovviamente spiega Dario Nardella, sindaco di Firenze e Sulla Nazione. E noi ci vediamo il servizio di Toscana Tg, che è il numero uno regia. Grazie. Bocciato il ricorso al TAR della famiglia Nervi sul restyling del Franchi, nella telenovela sul futuro dell'area del Campo di Marte e dello Stadio della Fiorentina si aggiunge oggi un nuovo tassello a favore dell'amministrazione comunale che tira dritto sul progetto. Il TAR della Toscana infatti ha dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ed interesse in capo alla concorrente il ricorso presentato dalla fondazione PLN Project, cui fa capo appunto la famiglia Nervi, la quale ha sempre criticato il progetto del gruppo Arup e in particolare la copertura. Il Tribunale amministrativo riporta la legge sul diritto d'autore che afferma che l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendesse necessaria portare all'opera già realizzata, ma può intervenire nello studio e l'attuazione delle stesse in caso l'opera sia riconosciuta di importante valore artistico. Ma, fa notare il TAR, gli eredi non hanno questa facoltà. La capacità creativa, si legge, costituisce qualità personale che viene meno con il decesso dell'artista, così come il diritto morale dell'autore che non può essere esercitato senza l'apporto personale diretto di chi ha realizzato l'opera. Dalla sentenza si evince poi che il diritto degli eredi si limita a rivendicare la paternità e alla possibilità di opporsi a modifiche lesive dell'onore e della reputazione, e chissà che questa non possa rappresentare uno spiraglio per un ipotetico ulteriore appello. Intanto però si registra una piccola vittoria per i progettisti e il Comune di Firenze, da cui capì la soddisfazione e viene ribadita la volontà di lavorare con costanza e perseveranza al progetto del restyling dell'impianto sportivo. Andiamo a occuparci di economia all'interno del quotidiano La Nazione. Vedete, la Toscana cresce ma non corre. Il PNRR vale l'1% in più di occupazione, spiega Nicola Sciclone, direttore dell'IRPET. I dati del rapporto IRPET, direttore Sciclone, taglio del cuneo fiscale, 41 euro di reddito in più al mese. Il monitor dei distretti, cresce il distretto orafo di Arezzo che traina tutti gli altri, cresce il distretto tessile e abbigliamento di Prato, bene anche il marmo di Carrara, la pelletteria e le calzature di Firenze. I dati sono ovviamente di intesa San Paolo. Oltre 24 miliardi di euro l'export nei distretti toscani del 2022, il record negli ultimi 15 anni, superati di 3,7 miliardi di euro i livelli del 2019. 16 famiglie toscane su 100 si percepiscono come povere. Quali sono gli effetti del PNRR? Ogni 10 euro di spesa attivano 7,4 euro di pil in Toscana, in sostanza vale il più 0,8% del prodotto interno lordo e l'1% in più di occupazione, equivalenti a oltre 16 mila assunzioni in più in un anno. Siamo alla Nazione di Firenze, il titolo di apertura, Franchi, bocciato e ricorso nervi. Il TAR dichiara inammissibile gli argomenti della fondazione PLN Project che chiedeva il blocco del progetto. L'iter per lo stadio va avanti, domani ultimo giorno per la presentazione delle offerte da parte delle ditte. E poi nel taglio alto la console americana Ragini Gupta lascia Lungano Vespucci. È stato un sogno stare qui, cambio della guardia, nella sede diplomatica. A centropagina, l'ultimo segreto, un corridoio collega, l'ex astro, a un palazzo di via Monteverdi, al vaglio tutti gli interventi delle forze dell'ordine prima della scomparsa di Cata, quindi sulla piccola Cata ancora da chiarire. Siamo ovviamente al futuro del Franchi, abbiamo già visto anche il servizio, il TAR boccia il ricorso, gli eredi non possono modificare l'opera. Vedete tutti i vari passaggi, siamo a giugno del 2023, la fondazione Nervi fa il ricorso al TAR e chiede l'allunamento della Libera con cui Palazzo Vecchio ad aprile ha approvato il progetto definitivo di ristrutturazione dello stadio firmato dall'architetto Davide Irce dello studio Arup. Il TAR considera il ricorso inammissibile, l'iter per il nuovo stadio va avanti. E poi il destino in due date, offerte ultime 24 ore, il Comune ha sette giorni per bussare in tribunale, Palazzo Vecchio una settimana per fare ricorso contro il governo, tempi record per velocizzare l'iter burocratico, entro fine luglio per quanto riguarda il Franchi. Poi siamo ovviamente al tema che riguarda la scomparsa della piccola Cata, Cata e il buco nero c'è un passaggio segreto che porta fuori dall'Astor l'arma già verificata, un corridoio tra l'ex albergo e un palazzo che sbuca in via Motteverdi. Il PM che era stato sul posto rianalizza le carte dei reati precedenti, anche i verbali della polizia a comporre il fascicolo d'indagine. Poi dopo la prima perquisizione tali vie di fuga controllate in successivi sopralluoghi. Siamo ovviamente ancora all'interno del quotidiano La Nazione, e con dopo il maxisgombero Pertini sotto controllo l'accoglienza va avanti per i 70 ospiti peruviani, 25 di loro sono minori, ha operatori a lavoro per aiutarli, le autorità smentiscono interventi di ordine pubblico, continuano le ricerche per ritrovare la piccola Cata. Gli operatori del Comune e delle cooperativi sociali stanno analizzando le piccole, scusate, tutte le singole situazioni, questo per quanto riguarda ovviamente l'ex Astor. Ancora, sempre all'interno del quotidiano La Nazione, segnaliamo questa intervista alla console americana che saluta con mossa un sogno, i fiorentini sono senza difetti, l'addio di Ragini Gupta dopo tre anni in Lungano Vespucci, da Washington arriva Daniela Ballard, dice proprio neanche un rimprovero da fare a questa città, i fiorentini per me non hanno difetti, dice con un sorriso sgargiante, questa è la domanda di Emanuele Baldi alla console che lascia per raggiungere la Giordania, nel suo posto, vedete dopo l'estate arriverà Daniela Ballard da Washington. Andiamo avanti sempre con i titoli che riguardano in questo caso la città, la polemica sui taxi introvabili non è colpa nostra, la categoria respinge ogni accusa, traffico impazzito, canterizzazioni e corsie preferenziali eliminate, i motivi di ritardo e di servizi, ma la questione è però da Roma, la ministra Santacchè attacca, non possiamo più dare questo disagio, Claudio Giudici di Uri Taxi spiega, si sposta l'attenzione dal problema strutturale delle nostre città. E proprio sulla vicenda del servizio di taxi a Firenze ci vediamo il servizio di Toscana TG, che è il numero due regia. Turista che incontri, esperienza che trovi, ma è innegabile che la polemica della mancanza di taxi a Firenze sia scoppiata nelle ultime settimane e in particolar modo nei weekend, con lunghe code che si sono formate soprattutto all'aeroporto e alla stazione di Santa Maria Novella. La polemica è divampata soprattutto sui social, dove da un lato gli utenti puntano il dito contro i tassisti, chiedendo al comune di emettere più licenze e quindi più auto in strada. Dall'altro i tassisti rispondono che il traffico vale anche per loro e se il cittadino resta imbottigliato, di certo l'auto bianca non vola. Entrambe le verità, spesso esternate, con la purtroppo ormai tradizionale violenza dei social, hanno un loro fondamento. A Firenze le licenze sono 740, comprese le 30 cosiddette terra, quelle cioè gestite direttamente dalle cooperative, e le 70 per auto elettriche che il comune di Firenze ha introdotto nel 2017. Stiamo lavorando, afferma l'assessore alle attività produttive del comune di Firenze Giovanni Bettarini, a una delibera per ampliare i turni delle auto in servizio, per colmare eventuali lacune che si possono presentare in periodi di criticità. Ci saranno insomma mezzi che restano in circolazione più tempo. La richiesta dei tassisti sarebbe un'altra. Ci restituisca due centimetri di preferenziale. Le ragioni del tappo vanno però anche ricondotte a un rimbalzo vertiginoso del turismo. Inoltre giugno è un mese particolare, con molti eventi, da pitti al calcio storico, che attirano un surplus di persone in città. Anche questo tassista conferma che il problema si è acuito, soprattutto recentemente. Sarà un paio di settimane, anche di più, qualcosa di più. Problema quello delle lunghe attese per un taxi, che non è solo locale, lo ha posto, riferendosi a città come Milano, Roma e appunto Firenze, anche il ministro del turismo Daniela Santanchè. Che siano stati gli eventi o il ritorno dei turisti, ultimamente le critiche hanno coinvolto anche gli NCC, che hanno fatto registrare diversi episodi di invasione di piazze e parcheggi selvaggi, spesso non proprio corretti. Lasciamo i clienti qui, poi diamo gli appuntamenti, li devono prendere. E così si dovrebbe fare. Le molte auto nere in città invece non solo arrivano da fuori, ma spesso lasciano l'auto parcheggiata ovunque e tornano a prenderla quando è l'ora di recuperare il cliente, cosa che non è consentita. Nei prossimi giorni, assicura l'assessore alla mobilità Stefano Giorgetti, faremo un controllo attraverso i dati dei Varchi per capire l'entità del fenomeno. E adesso andiamo all'interno del quotidiano della Nazione, siamo in Mugello, frane 10 milioni agli agricoltori, in gran parte per le colture, il resto per i fabbricati, altri 10 milioni per riparare le strade danneggiate dopo l'ondata del maltempo che ha ovviamente coinvolto l'alto Mugello. E vedete proprio la mappa dei danni, il numero totale delle frane 392 tra i comuni di Firenzola, Palazzolo sul Segno e Marradi. I settori colpiti, fabbricati, colture, ma il 51%, la viabilità e poi la spesa per intervento, il totale stimato è di 20 milioni di danni. Andiamo avanti sempre con i titoli del giorno, lo facciamo con il quotidiano La Repubblica di Firenze, l'apertura stadio, il tar boccia il ricorso, non si ferma il restyling, giudicato inammissibile, era stato presentato dagli eredi dei nervi. E poi la prova, eventi catastrofici, un SMS ci avvertirà del pericolo, oggi il test in Toscana. L'economia, il 60% delle famiglie fatica ad arrivare a fine mese, e poi lo vedremo. E poi la storia di un naufrago della costa Concordia che deve risarcire fin cantieri. Allora, procediamo con ordine. Intanto la difficoltà economica delle famiglie, nell'articolo di Azzurra Giorgi, che riporta i dati del rapporto dell'IRPET, tagliati i consumi, il 60% delle famiglie fatica ad arrivare alla fine del mese. Per il 2022 si stima una crescita del PIL dal 4,1%, spinto anche dal boom del turismo. Con il PNRR si prevedono più posti di lavoro, circa 16 mila in più. E poi la vicenda di Firenze e Fiera, c'è chi dice no all'aumento di capitale, la Camera di Commercio di Pistoia e Prato frena, cosa può accadere adesso sul destino di Firenze e Fiera. Ancora avanti con invece le notizie che riguardano la sanità, i disservizi di Esculapio, anziani abbandonati, altre segnalazioni, continuano ad arrivare messaggi alla redazione di Repubblica di persone in attesa per ore di un'ambulanza, non è rispettoso, è un volontario lancia un appello che ha un po' di tempo a disposizione, venga a darci una mano. Ci sono nuove segnalazioni sui problemi di Esculapio, ma anche l'invito a dare una mano a chi può mettere a disposizione il suo tempo. Il servizio per i trasporti ordinari lascia spesso le persone in attesa, come già segnalato da molti lettori di Repubblica nei giorni scorsi. Un uomo ha aggiunto la storia del padre, ha 82 anni, è cardiopatico ed è finito al pronto soccorso per un forte trauma, ad una coscia nei giorni scorsi. Lo hanno dimesso alle 14.30 e fino alle 22 nessuno si è degnato di dirci qualcosa. Poi ci hanno spiegato che forse l'ambulanza per portarlo a casa sarebbe arrivata la mattina dopo. E' rimasto tutto il tempo senza avere un antidolorifico e un bicchiere d'acqua. Questo spiega il quotidiano La Repubblica. E poi questa curiosità che riguarda io, naufrago del Giglio, costretto dal Tribunale a risarcire fincantieri. Allora, la storia è quella di Ernesto Carusotti, 82 anni, residente a Roma, che ricorda ancora con il terrore la notte del 12 gennaio del 2012, quando la Costa Concordia, impegnata in una crociera nel Mar Mediterraneo, orto il più piccolo degli scogli, delle scole davanti all'isola del Giglio, causando uno squarcio di circa 36 metri nello scafo e portando al naufragio dell'imbarcazione. Tra chi quella sera visse quella tragedia c'era anche lui, che non ha mai smesso di chiedere chiarezza su quella notte, che però alla morte di 32 persone ha portato avanti queste cause per una questione di principio. Era giusto far luce. Invece il giudice di Genova, pur condannando Costa Crociere, ci ha dato torto per quanto riguarda fincantieri, nonostante, secondo me, fincantieri non abbia meno responsabilità, perché l'imbarcazione aveva dei problemi strutturali. È una situazione assurda e per questo deve pagare con il Codacons i 14 mila euro di spese legali. Questo per aver citato in giudizio fincantieri. Ancora invece con le notizie che riguardano in questo caso la carta d'identità, ci sono picche di richieste, appuntamenti fino a 52 giorni. Palazzo Vecchio aggiunge lo sportello straordinario al parterre per il sabato, ma il problema dei ritardi è anche per la carenza di personale. Le nuove assunzioni non tamponano i continui trasferimenti. Ci sono tuttavia dei percorsi veloci per chi dimostra di avere delle urgenze. Poi indagini chiuse sulla Taurus, oltre 70 i truffati. Uno dopo l'altro erano feriti nella rete delle false promesse della Taurus. Alla guida c'era Ronald Eufracia, giovane broker neppure trentenne. Dalla metà del 2020 fino all'inizio del 2022 ha praticamente coinvolto 78 vittime in investimenti che non erano tali. In tutto si calcolano circa 1,1 milioni di euro dati alla società Taurus oggi fallita. Da chi? Fiorentini soprattutto, ma sono arrivate segnalazioni di persone truffate anche all'estero, ad esempio dalla Francia. Anche perché Ronald, che durante l'attività raccontava di una vita di lusso con voli a Dubai, abiti fermati, nel frattempo si è reso irreperibile. Fuggito forse a Milano, tempestato dai creditori, e ora con l'avviso di conclusione indagini da parte della Procura. Questo spiega il quotidiano della Repubblica di Firenze. Ci fermiamo per dare lo spazio alla regia. Torniamo tra poco con tutte le altre notizie del giorno e con i nostri ospiti. Buongiorno, dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1, coda per lavori in galleria tra B1 Variante e Sasso Marconi verso nord. Per traffico, possibili disagi tra Calenzano e B1 Variante, sempre verso nord. In Amundici tra Prato Ovest e Bibio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, verso Firenze e in Fipili tra La Strassigna e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo. Dal traffico urbano di Firenze, possibili disagi per incidente, segnalato in via Giovanni Battista Foggini. Il traffico ferroviario, ricordiamo che prosegue nei lavori di intervento di potenziamento infrastrutturale lungo la linea Prato-Bologna con interruzione fino all'11 agosto della tratta Bologna-San Benedetto dal 12 agosto al 3 settembre dell'intera tratta Bologna-Prato. Il collegamento tra Prato e Bologna viene effettuato con servizi bus sostitutivi. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Oversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Bar Valentina, a Prato e in via Roma, tutti i giorni dalle 5.30 alle 19.30, la domenica dalle 6 alle 13. Ma che vuoi di più? Bar Valentina, seguici su Facebook. Scegli ancora di donare il tuo 5 per 1000 ad Humanitarian Help for Poor People Onlus, che da oltre 20 anni aiuta le popolazioni più povere del mondo. Il tuo aiuto giungerà sicuramente a dettagli. Come poter risparmiare sui costi fissi ai quali non potete rinunciare? Davide Zaccaria di Crida Vitali, Energie del futuro, leader da oltre 25 anni nel risparmio energetico. Fateci venire direttamente nella vostra casa, nella vostra azienda, per dimostrarvi quanto risparmierete sui costi fissi. Crida Vitali, Energie del futuro! Non lasciateli soli. Sostenete l'Aima. Non dimenticare chi dimentica. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alzheimer. Non ti costa nulla, ma per noi vale tanto. Buongiorno a tutti i gentili telespettatori di Toscana TV e Firenze TV. Di nuovo ben trovati a Refresh. Buona giornata da Andrea Vignolini. È martedì 27 giugno 2023. Stiamo leggendo i titoli dei quotidiani in edicola per quanto riguarda la segna stampa locale. Andiamo anche nelle pagine regionali del Tirreno e ritorniamo sul tema del rapporto dell'IRPET, l'Istituto Regionale per la Programmazione Economica Toscana. Turismo e progetti del PNRR trainano l'economia toscana. Presenze già a livelli pre-Covid sulla costa, non nelle città d'arte per quanto riguarda il turismo. Il PIL regionale batte quello italiano. Previsioni buone fino al 2025. Vedete i progetti del PNRR che valgono tra l'altro 16 mila posti di lavoro e circa uno 0,8% di PIL in più per quanto riguarda i dati dell'IRPET. Ma su questo ci vediamo il servizio di Toscana TG che è il numero 3 regia. Grazie. Nel 2023 in Toscana il PIL crescerà dell'1,1% mentre nel biegno 2024-2025 l'incremento sarà dell'1,3% annuo. Ad affermarlo i ricercatori dell'IRPET nel rapporto sull'economia regionale presentato oggi a Firenze. Le previsioni risentono però di un inevitabile margine di incertezza legato sia al percorso di implementazione del PNRR sia ai dettagli attuativi della politica di bilancio di questa legislatura oltre all'instabilità del quadro internazionale. Insomma, la Toscana cresce ma non corre. L'intonazione del ciclo è espansiva ma necessita di un consolidamento. La percezione che le famiglie hanno è quella di un lieve peggioramento delle proprie condizioni di vita e anche perché il lento rientro dall'inflazione rischia di compromettere al ribasso la dinamica dei consumi alimentando un clima di sospensione sulle prospettive di crescita. In questo quadro vi sono settori che vanno meglio come il turismo che ha una forte accelerazione e altri che mostrano una frenata come la produzione industriale. Malgrado il contesto generale sfavorevole, lo scorso anno il PIL regionale è aumentato del 4,1% più di quello italiano. Bene, l'occupazione cresce quella stabile, il picco dell'inflazione sembra essere alle spalle ma rimane la questione del reperimento del personale. Noi ci attiviamo molto con le politiche attive del lavoro attraverso la nostra azienda, arti, ossia trasformazione di professionalità da imprese in crisi, creazione di specializzazioni post scolastico per gli studenti, sia l'opportunità di creare anche delle start-up. Il report si sofferma anche sull'impatto che sta producendo il PNRR e quello che potrà generare il decreto lavoro. La svolta la possiamo avere con il Pleno Nazionale di Ripresa e Resilienza se saremo in grado di utilizzare queste risorse per aumentare la dotazione di capitale e accrescere la redditività. è possibile farlo ma bisogna rimanere tutti dalla stessa parte. E adesso saluto l'europarlamentale della Lega Susanna Ceccardi che è in collegamento con noi. Buongiorno e ben trovata. Buongiorno, grazie a voi. Allora, partirei innanzitutto proprio dal rapporto dell'IRPET. Abbiamo ascoltato il servizio, titola in modo centrale, repubblica, sul fronte dei cittadini e delle famiglie. Tagliati i consumi, il 60% delle famiglie fatica ad arrivare alla fine del mese. Tra le economie delle famiglie toscane c'è il taglio della spesa alimentare. Questo fa capire, onorevole, che occorrono misure di sostegno al reddito delle famiglie toscane. Sì, la situazione in Toscana, diciamo che soprattutto dal punto di vista del turismo, secondo l'indagine dell'IRPET, la Toscana sta riprendendo quota, il turismo va bene, c'è un'economia che si espande soprattutto nel settore turistico, ma soffre il settore industriale, soffre il settore manufatturiero, che poi è il settore stabile, trainante, anche della nostra economia toscana con i vari distretti. E a cascata, con questa mancata espansione anche in campo industriale, ne risentono anche le famiglie, i lavoratori, coloro che magari hanno perso il lavoro e non lo riescono a trovare. Quindi è importante sicuramente agevolare anche chi lavora e dà lavoro per espandere ulteriormente l'economia toscana. Le famiglie poi in difficoltà hanno bisogno sicuramente di sostegno, questo attraverso i servizi sociali dei comuni e attraverso la rete territoriale, che in Toscana esiste appunto attraverso soprattutto gli enti comunali, attraverso i sindaci. Credo comunque che a livello italiano l'economia, secondo gli ultimi dati, sia appunto in trend positivo. Se la Toscana rimane un po' più indietro rispetto anche alle altre regioni del centro-nord, dobbiamo sicuramente fare una riflessione. Le infrastrutture che sono indirettamente, ma direttamente collocate anche all'espansione della nostra economia, hanno sofferto negli ultimi anni. La Toscana è ferma dal punto di vista infrastrutturale. E invece dobbiamo dare una nuova svolta. Ecco, parlava del turismo, a proposito ovviamente dei numeri che sono decisamente... Scusatemi, ma sento pianissimo. Se è possibile alzare il volume? Provvedo con la regia. Lo chiedo. Grazie. Provvedo con la regia. Allora, no, il punto principale è questo. Parlava del turismo e delle presenze ovviamente turistiche in grande crescita. Come sa bene, tra l'altro, il tema degli affitti turistici delle abitazioni è un tema molto particolare, non soltanto a Firenze, ma anche in tante città capologo di provincia in Toscana. Ieri, per esempio, sul Tirreno si parlava della situazione di Pisa. Qua siamo invece sul Corriere Fiorentino di oggi che ci porta a questa storia qui. Storia simbolo della residente pentita. Qui è tutto fatto per chi vende. L'ex maestra in pensione è tornata a vivere in San Lorenzo, 82 anni, e racconta poi all'interno della sua vita quotidiana, dice. Dietro la sala cinesca spunta una mangiatoia, tavolini, non frieste, prima lì c'era un garage. Cioè la difficoltà poi per chi sceglie di vivere nei centri storici di città che ormai hanno funzioni prevalentemente rivolte ai turisti. E quindi se aprono nuove attività, spesso aprono nuovi settori, diciamo, attività legate al mondo del food, oppure addirittura depositi di bagagli, oppure attività che svolgono, diciamo così, servizi per gli appartamenti in affitto. Cioè questo crea un ecosistema che di fatto svantaggia il residente. È logico che poi la, come dire, la redditività che hanno gli appartamenti che vengono dati in affitto ai turisti è una redditività molto alta e su questo ovviamente poi il mercato domina. Però da contraltare al boom del turismo c'è questo, cioè chi sceglie di tornare a vivere in centro di fatto non ci può vivere. Magari si trova da solo, come la storia che racconta oggi Correa Fiorentino, in un appartamento che è tutto riservato agli affitti turistici. Ecco, questo aspetto forse dovrà essere regolamentato. Mi pare che la Ministra Santanchelo stia facendo con i sindaci. Sì, è una storia che comincia comunque già da qualche decennio, quella dello spopolamento dei centri storici da parte dei residenti e l'arrivo dei turisti, dell'oberturism. Chi ha una casa in centro preferisce affittarla a fitti brevi e poi andare a vivere in periferia, magari con una casa con giardino che costa meno e ha servizi migliori. Però questo è un problema anche dei piani urbanistici, soprattutto delle grandi città che hanno favorito, i piani del commercio anche delle grandi città, che hanno favorito le attività turistiche a svantaggio di quelle di quartiere, di quelle che consentono anche la vita residenziale nei quartieri. Oggi ci si lamenta, si corre ai ripari, si punta il dito magari contro Airbnb, ma Airbnb non è altro che la risposta del mercato a una domanda esistente. Il mercato, se non è appunto regolato, procede e va in quella direzione. D'altronde anche i proprietari di casa preferiscono affittare ad affitti brevi molto più sicuri che affittare ad affitti lunghi, quadrennali, 4 più 4, con inquilini che poi spesso sono morosi e la giustizia italiana non dà garanzie anche sugli introiti di questi inquilini. È un problema annuso, ma a cui bisogna mettere mano. Sicuramente bisogna rendere più convenienti gli affitti lunghi rispetto anche agli affitti brevi, questo già nella normazione, ma ulteriormente incentivare questo punto. E poi pensare quando si fanno i sindaci, quando si fanno i piani del commercio, i piani urbanistici ad una città a misura di residente, non solo a misura di turista. Oltretutto a Firenze, come a Venezia, si soffre di un overturism, di un turismo magari poco qualificato che invade le città e non porta a un ritorno anche in termini economici di livello. Forse anche sulle scelte delle infrastrutture, quindi degli aeroporti, sulle scelte dei collegamenti, su questo bisogna fare sicuramente una riflessione e selezionare il turismo che arriva anche a Firenze che soffre di overturismo e sparmare quel turismo nel resto della Toscana che invece ha una carenza, magari a volte va in sofferenza. Ci sono borghi bellissimi in tutta la nostra Toscana che meriterebbero di essere visitati. Dobbiamo trovare delle strategie che permettano di spalmare quel turismo che a Firenze e nelle città grandi è strabordante e portarlo altrove. Setta, dal tema del turismo a quello delle abitazioni. Molti sindaci, anche il sindaco Tomasi di Pistoia che è un sindaco di Fratelli d'Italia, hanno protestato per il taglio del governo ai fondi per i contributi degli affitti. Anche lei ovviamente è stata sindaco, quindi sa bene di cosa parliamo. La lega ha molti sindaci in giro per l'Italia. Credo che magari anche tanti primi cittadini del centro-destra hanno chiesto al governo un ripensamento su questo, presumo, perché poi, come dicevamo prima, da un lato c'è il tema dell'over turismo che porta anche a un innalzamento dei calmi di affitto in molte di queste città e se poi ci si trova anche senza contributi dell'affitto è un ulteriore problema. Secondo lei su questo si potrebbe rivedere qualcosa a livello governativo? Grazie, glielo dico molto chiaramente. Questo governo sta facendo bene in tanti campi, ma questo è stato a mio avviso un errore, molto onestamente, e credo, mi sono già interessata con i parlamentari toscani della Lega a Roma e che stanno interceso il Ministero per cercare un tampone a quella scelta. Devo dire che la misura scadeva nel 2022, quindi non è che è stato tolto, è stato lasciato scadere e non è stato però rinnovato. Questo secondo me è stato un errore, a cui però si può porre rimedio con la prossima legge di bilancio, perché tante famiglie sono in difficoltà e meritano un ascolto e devono essere sicuramente ascoltate dalle istituzioni in primis romane e da chi è sindaco o ha fatto il sindaco come me, che appunto intercede perché conosce bene i bisogni dei cittadini. Seta, volevo con lei commentare, questo è accaduto alcuni giorni fa in Viale Corsica, tra l'altro anche lei ha già detto la sua opinione, però dice Viale Corsica, ancora vandalismi contro la sede della Lega, il segretario Bussolin spiega che non è nostra colpa è batterci per la legalità e la sicurezza dei cittadini e contro le occupazioni abusive. Ora, questo fatto, lei dice, la mentalità di certi antidemocratici non cambia mai, Salvini spiega nulla a temere, però il punto principale è che questo non è un episodio singolo, è un episodio sistematico quasi che avviene nei confronti, prima è accaduto quando la Lega non aveva una sede a Firenze, posso dirle che questo accadeva anche contro le sedi dei partiti di centrodestra, Forza Italia, N, il PDL poi, cioè c'è qualcosa di più secondo lei oltre alla mentalità di certi antidemocratici, come ha spiegato? Diciamo che questi episodi sistematici, come giustamente li ha chiamati, avvengono poi quando ci sono le indagini della polizia e dei carabinieri, si poi giunge, quando trovano il colpevole sempre a dei gruppi che fanno riferimento ai centri sociali e a gruppi organizzati che poi fanno politica e molto spesso estrema nelle nostre città, quindi è riconducibile a un estremismo di pensiero. Io, anche quando facevo il segretario della Lega Toscana, ma sostenendo anche le scelte del segretario Luca Baroncini, che è il nostro sindaco di Montecatini, il segretario toscano, credo che le sedi dei partiti, dei quartieri, siano un presidio del territorio, siano dialogo con i cittadini, debbano essere aperte e tenute aperte perché sono un punto di incontro fondamentale tra la politica e i cittadini, dove i cittadini possono anche portare le proprie istanze e i pensieri, è quindi un momento di confronto imprescindibile per la nostra democrazia, non rinunceremo mai ad aprire, ad avere le nostre sedi per qualche scritta o minaccia, gli estremisti che fanno questi gesti lo sappiano bene, anzi diciamo che questi gesti poi rafforzano la nostra convinzione che c'è bisogno di più democrazia, visto che in alcune mentalità manca. Quindi porto la mia solidarietà anche alla sede di Forza Italia, che è stata vittima di scritte dopo la morte di Berlusconi, ingiuriose nei confronti del defunto Silvio Berlusconi e in meritate, perché in questo periodo specialmente bisognerebbe portare semplicemente solidarietà a quel partito. Grazie a Susanna Ceccardi, ero parlamentare della Lega che è stata con noi, grazie mille e buon lavoro, buona giornata. Grazie a voi. Andiamo avanti con i titoli di oggi, ovviamente siamo rimasti sulla prima pagina del Corriere Fiorentino e c'è questa storia che leggiamo poi all'interno, a pagina 6. Mio figlio è autistico da due mesi in psichiatria, ma lì non può stare. Continua l'odissea di Gianluca, nonostante le promesse dell'Asl e l'appello dei genitori. Questo spiega il Corriere Fiorentino. La storia, Gianluca, 20 anni, affetto da una grave forma di autismo. Quando aveva 16 anni è stato trasferito in una struttura terapeutica perché i genitori non riuscivano più a vivere assieme a lui. Prima al Centro Terapeutico Europeo di Rignano, poi all'ospedale psichiatrico delle Oblate. La madre, Luisella, ha dovuto lasciare il lavoro per seguirlo e anche il padre ha avuto problemi sul posto di lavoro. Nonostante le promesse, la situazione non è cambiata. La storia viene raccontata oggi da Jacopo Storni. E poi siamo a Firenze, in via dei Conciatori, dove gli operai Enel rompono una tubatura del gas. Questo è accaduto durante lo scavo. La ditta terza incaricata da Enel avrebbe fortuitamente compromesso una tubatura del gas. Per questo dei residenti riferiscono di essere stati allontanati dalle proprie case per ore. Poi ancora con una notizia che riguarda l'hamburger con vista Santa Croce. Ora il delivery arriva anche in strada. Lo spot del locale di Via De Benci, ma non mangiatelo sugli scalini. Se no il primo cuore è puntini, puntini. Sì, però ragazzi, incredibile la pubblicità che viene fatta sui social da questo locale. Andiamo avanti con i titoli che riguardano invece la situazione in Alto Mugello. Abbiamo già letto La Nazione, però questo è interessante. Alto Mugello, si segnalazioni delle aziende, 20 milioni di danni dall'alluvione. Il sindaco di Marradi, dallo stato di emergenza, stanziati solo 4 milioni. Speriamo sia solo l'inizio, spiega Tommaso Triberti, sindaco di Marradi. In questo momento, appunto, se si aggiungono però i danni alle strutture pubbliche, si arriva a 100 milioni di danni tra i comuni di Firenzuola, Palazzuolo sul Senio, Marradi e Londra, che sono quelli interessati ovviamente dall'ondata di maltempo. Siamo invece all'interno del quotidiano del Tirreno. Allerta catastrofi, domani alle 12, squillo simultaneo su tutti i cellulari. La Toscana scelta come regione pilota. Il messaggio sarà accompagnato da un particolare suono per richiamare l'attenzione. E poi ancora sempre siamo a Livorno con il quotidiano del Tirreno. E' tornata la ladra dei Rolex, derubato un altro anziano. Era a passeggio con la moglie ad Antignano. Sesto colpo in un anno. Ollivornese di 78 anni, vittima di una donna davanti all'Universa, l'aveva appena fatto colazione in un bar. Siamo all'interno del quotidiano Il Tirreno con le notizie che riguardano ovviamente Firenze. Alcol, grida e rifiuti, Far West, minimarket e nei rioni. Senza sonno, viaggio nelle strade della movida notturna. La mia vicina si è trasferita, qui non si dorme. E poi ancora il boom di violazioni. Firenze firma il patto per la notte. Ecco le regole da seguire. Sono state sospese attività che vendevano alcolici per un totale di 723 giorni di chiusura. In un anno e mezzo serve adottare strumenti permanenti di analisi dei fenomeni e valorizzare il ruolo della polizia locale. E poi sul debito di Firenze fiera. La scure della Corte dei Conti, oggi prevista all'Assemblea dei Soci per l'Ok. Al piano di risanamento, Palazzo Vecchio chiederà un rinvio. Prato e Pistoia non saranno presenti così il quotidiano, il terreno. E poi Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. I vertici verso il Rino Nuovo e spunta il nome di Albiera Antinori. In Lizza anche Carrai, Traina, Rogantini. Ipotesi, Rogali, Traghettatore. In calo invece Bernabò bocca per quanto riguarda il vertice di Cassa di Risparmio di Firenze perché l'attuale Presidente scade adesso nel mese di luglio, 14 luglio. E poi da settembre si dovranno rinnovare i vertici. E adesso proseguiamo ancora con i titoli dei quotidiani locali. Lo facciamo anche con la Nazione di Arezzo. L'apertura Presidio Fimer nel cuore di Milano. È il titolo di apertura. Protesta in trasferta alle 5. i pullman, manifestazione a V-mercate e poi sit-in davanti alla regione Lombardia. Questo per quanto riguarda il destino della Fimer. Andiamo all'interno del quotidiano La Nazione. Apriamo la rassegna stampa sportiva. Oggi molto densa di notizie. Intanto La Nazione che apre con È iniziata l'era del Viola Park. Fiorentina, ritiro dal 12 luglio. L'incognita degli spettatori. Perché? Perché non è detto, visto che il Viola Park è un cantiere, possano entrare gli spettatori. Viola Park, la rivoluzione, tutto il ritiro dal 12 luglio. Ma c'è l'incognita tifosi. Il centro sportivo è da rifinire. Non è chiaro quanto potranno entrare gli spettatori. Il via della nuova stagione, spiega il quotidiano La Nazione. E poi Viola, la pattuglia degli svincolati. Da Pereira a Bamba fino a Diuricic. Quelle occasioni su cui riflettere. E fra i nomi ci sono Isco e Rodriguez. Per quanto riguarda le trattative, la Fiorentina potrebbe prendere Vladimiro Falcone, Elia Caprile o Emila Udero in porta. I difensori Carlos Augusto, Federico Baschirotto e Andrea Cambiaso. I centrocampisti Maxime Lopez, Schoten del Bologna o Dominguez, sempre del Bologna. Gli attaccanti, Inzola, Retteghei e Dia. Questi sarebbero gli obiettivi secondo la Nazione. Andiamo poi all'interno del quotidiano La Repubblica, invece, con gli allenamenti, le amichevoli. Cambia tutto al Viola Parca, addio al ritiro in montagna. Quest'anno appuntamento nella nuova struttura dal prossimo 12 luglio, spiega Matteo Dovellini sul Repubblica di oggi. Velocemente anche nell'articolo del Corriere Fiorentino che riguarda il diavolo tentatore per chi? Per Amrabat. Su Amrabat piomba il Milan che dopo la cessione di Tonali ha i soldi da investire. La valutazione dei rossoneri è lontana dai 30 milioni e anche l'atletico si tira fuori. Questo spiega il quotidiano del Corriere Fiorentino. Quindi per Amrabat sembrerebbe non esserci più nessuno. Velocemente una notizia importante che riguarda la Fiorentina. Da oggi la Gazzetta dello Sport. Juve verso l'Aurostop. Niente conference. L'OEFA potrebbe punire i bianconeri con una maximulta. Vedete Juve verso un anno di stop. E il titolo questo spalancherebbe la possibilità alla Fiorentina. Salta la conference. Rischio multa. Milionaria. Mai tempi si allungano. Nyon deciderà a metà luglio. Il dibattimento deve ancora iniziare. Il PM parlerà con il club e proporrà la sanzione. Appello solo al TAS. Quindi per la Fiorentina un'eventuale partecipazione alla conference. Sarebbe ufficiale a partire dalla metà di luglio. Grazie a tutti voi che avete seguito questa puntata di Refresh. Ci troviamo domani mattina puntuali come sempre alle 6.50. Ad Andrea Vignolini a tutti voi. L'aguria di una felice giornata. Ale. Grazie. Grazie.